Condotto Gesù dal sommo sacerdote, si radunarono tutti i capi dei sacerdoti, gli anziani e gli scrivi. Pietro intanto, avendolo seguito da lontano fin dentro al cortile del sommo sacerdote, se ne stava seduto con i servi di lui e si scaldava vicino al fuoco. Ora i capi dei sacerdoti e tutto il sinedrio cercavano qualche testimonianza contro Gesù per farlo morire, ma non ne trovavano. Infatti molti attestavano il falso contro di lui, ma le loro testimonianze non erano concordi. Allora si alzarono alcuni che attestando il falso contro di lui dicevano, l'abbiamo sentito noi mentre diceva, io distruggerò questo tempio fatto da mani d'uomo e in tre giorni ne ricostruirò un altro non fatto da mani d'uomo. Ma anche su questo non si ebbe una testimonianza concorde. Allora il sommo sacerdote, alzatosi in piedi in mezzo al sinedrio, interrogò Gesù dicendogli, non rispondi nulla? Che cosa testificano costoro contro di te? Egli però taceva e non rispondeva nulla. Perciò il sommo sacerdote lo interrogò di nuovo dicendogli, sei tu il Cristo, il figlio del Benedetto? Rispose Gesù, sì, sono io. E vedrete il figlio dell'uomo, seduto alla destra della potenza, venire con le nubi del cielo. Allora il sommo sacerdote, stracciandosi le vesti, disse, di quale testimonianza abbiamo ancora bisogno? Avete sentito la bestemmia? Che ve ne pare? Tutti lo giudicarono reo di morte. Alcuni poi si misero a sputargli addosso, a coprirgli il volto e a percuoterlo dicendogli, indovina. E i servi lo presero a schiaffi. Ora, mentre Pietro se ne stava giù nel cortile, giunse una delle serve del sommo sacerdote, e avendo visto Pietro che si scaldava, fissandolo, gli disse, anche tu eri col Nazareno, Gesù. Ma egli negò, non so e non capisco cosa tu dici. Quindi uscì fuori nel vestibolo, e un gallo cantò. Vedutolo ancora, la serva incominciò a dire di nuovo ai presenti, costui è uno di loro. Ma egli negò nuovamente. Poco dopo i presenti dissero di nuovo a Pietro, sei davvero uno di loro, infatti sei Galileo. Ma egli incominciò a imprecare e a giurare, non conosco quest'uomo di cui parlate. E subito per la seconda volta, un gallo cantò. Allora Pietro si ricordò delle parole che Gesù gli aveva detto. Prima che il gallo canti due volte, mi rinnegherai tre volte, e proruppa impianto. Continuiamo la riflessione sulla passione secondo Marco. Siamo al momento del processo davanti ai giudei. di questo processo non abbiamo una descrizione dettagliata. Come al solito negli evangelisti, e Marco in particolare, si limitano ad alcuni aspetti ed elementi che considerano significativi. nel processo Marco sottolinea che fin dall'inizio la decisione è presa. Gesù deve essere messo a morte. In realtà, dunque, Marco vuol farci capire che si tratta di un falso processo. Nonostante ciò, il dialogo tra Gesù, il sommo sacerdote, giunge ad appurare la verità. Gesù è il Messia e proprio in base a ciò viene condannato. Il paradosso è che mentre si rivela la dignità divina di Gesù, egli, schernito ed umiliato, viene privato arbitrariamente anche della sua dignità umana. viene trattato come uno schiavo.